Ciao ragazzi, live reaction di Juve Milan Coppa Italia, siamo tornati, io vi chiedo scusa della qualità del video ma lo sto facendo con il programma per il computer e quindi non sto usando la telecamera che uso solitamente perché mi serve essendo la telecamera del cellulare ma ovviamente siamo qua per fare queste live reaction e la formazione della Juve a me piace oggi particolarmente adesso ve la leggo riprendendola un attimo velocemente adesso ovviamente devo aprire il twitter della Juve, eccola qua Buffon, Bonucci degli centrali, Danilo e Alessandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Ronaldo, Dagros, Costa e Di Bala diciamo che è la stessa formazione che ho detto ieri l'unica cosa è Danilo al posto di Quadrado e mi trovo assolutamente d'accordo visto che Quadrado è bravissimo a partita in corso ma tant'è guarda che non ce lo dà ma c'è non ce lo dà ma guarda che lui l'ha detto subito apposta che poi se non ce lo dà non scanno ma noi vogliamo rubare già dal recupero, dal ritorno, dal gioco bravo Orsardo, dacci sto rigore dai ragazzi questo è un rigore clamoroso ragazzi è clamoroso sto rigore ma che cazzo stai aspettando ma proprio da Matteo ha deciso, borsato rigore, 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 rigore ed è rigore pronto eh, infatti ce l'ha dato dai, ciao vai Ronny vai Ronny vai Ronny vai Ronny vai Ronny vai Ronny Nonni No Un po' trattenere È finita, siamo in finale Se non l'avete visto andate a vedere Il mio post partita Il mio post partita